mamma mia mamma mia che sofferenza alla fine che sofferenza l'ultima 25 30 minuti di gara c'è proprio schiacciato poi appena trovato il gol gabbiadini due minuti fa bel gol ma dormita difensiva e no però abbiamo sofferto troppo infatti intanto siamo il 91esimo con quattro minuti recupero e infatti sono da una parte contento da una parte non contento perché il primo tempo spettacolare forse il miglior primo tempo della stagione tutti benissimo grandissimo zaccani super milinkovic doppietta di ciro immobile veramente sembrava la giornata perfetta poi però nel secondo tempo buio totale ci siamo schiacciati dietro la sampdoria ovviamente prendeva coraggio ha avuto tre quattro occasioni in cinque minuti molto pericolose grandissimo stracoscia oggi grande stracoscia veramente grande grande stracoscia sbaglia un po di rinvii ma stracoscia sa parare sa parare e reina no quindi è questo che deve capire maurizio sarri secondo me deve giocare stracoscia io mi fido più di lui deve aggiustare un po il piede sui rinvii però ha fatto due grandi parate quindi abbiamo fatto giocare liberamente la sampdoria ci siamo schiacciati dietro e sta cosa non va bene perché la partita si 3 a 0 sembra chiusa ma ci sono ancora 50 minuti di gioco non è chiusa sul 3 a 0 si può ribaltare si può ribaltare come ad esempio è successo oggi pomeriggio venezia verona 3 a 0 venezia vinto 4 a 3 il verona poi arriviamo all'espulsione di Milinkovic mamma mia però sì Milinkovic è stato un pollo non doveva reagire così ma l'arbitro ma dai arbitro ma ma cosa fa ma cioè imbarazzante l'arbitro veramente un fallo su Milinkovic plateale gli prende il piede gli prende la caviglia gli tira la maglia così proprio al collo tanto attenzione la sampdoria stracoscia un'altra parata ancora mamma mia che sofferenza però secondo tempo veramente male male malissimo primo tempo invece spettacolari qua si vede come la partita può cambiare faccia da un momento all'altro comunque dicevo Milinkovic un fallo plateale gli ha tenuto la maglietta a 5 secondi l'ha quasi strozzato poi Milinkovic si è arrabbiato diciamo si è dito per il fallo non dato attenzione ancora parata di stracoscia ma che sofferenza stracoscia stavolta la blocca mamma mia così non va bene non va per niente bene secondo tempo uno schifo uno schifo stracoscia che miracolo mamma mia grandissimo stracoscia e allora Milinkovic dopo quel fallo non dato si è si è arrabbiato un po vabbè ha avuto un battibecco con l'arbitro e ok intanto finisce qui la partita 3 a 1 per la Lazio vittoria portata a casa e dicevo Milinkovic si è si è un po' arrabbiato poi l'azione dopo ha fatto un fallo si è preso il giallo l'ora ha protestato non si è capito bene l'abbiale però sembrava dicesse eh ma il fallo di lano lo fischi così un po' infastidito ma niente di che da quello che sembrava niente l'arbitro ha preso gli ha dato il rosso ok ha reagito è una cosa che non si deve fare però c'è un fallo plateale lo tira per il collo è normale che si innervosisce ma poi non è che gli abbia detto tutte queste parolone poi è entrato un ricci nel secondo tempo non ne parliamo di quel bidone di giocatore non ne parliamo di quel bidone di giocatore non riesce a tenere una palla ogni palla che tocca la perde se la allunga la gestisce male mamma mia veramente imbarazzante zaccagni finalmente che partita di mattia zaccagni due assist non ha trovato il gol ma veramente lui al contrario di felipe anderson le ultime partite ogni volta che prende palla punta l'uomo punta l'uomo e tante volte se ne va a un bel piedino invece non è che ha paura di puntare l'uomo lui punta e va poi magari lo ferma però punta e va e oggi era veramente incontenibile ha fatto ballare delle cischi comunque fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate tre punti fondamentali portati a casa primo tempo Lazio fantastica secondo tempo male male c'è molto da rivedere stracoscia grandissimo per me deve giocare lui lo ripeto niente io vi saluto via con una buona serata bene bene